Io capisco, io capisco la vostra... abbassate le bandiere se no non vedono laggiù, abbiamo della gente di Molfetta, dove siete? Mi hanno detto che venivano, anche gente di Bisceglie, Tre Puzzi, tirate giù! Ah, fantastico! Allora signori, qui siamo, siamo veramente, togliete la musica, siamo veramente a una svolta, l'avete già capita, inutile che io aggiunga cose, è nato questo movimento nel 2009, il 4 di ottobre, 5 anni fa, 5 anni, non ci credeva nessuno, nessuno che a me diceva ma cosa stai facendo, sei scemo, ti butti in politica, fai il comico, è nato il giorno di San Francesco, e l'abbiamo scelta apposta quel giorno lì, il 4 di ottobre 2009, il giorno di San Francesco, perché noi siamo una comunità e vogliamo che l'Italia diventi una comunità e Papa Bergoglio è venuto dopo! Va bene? Ma ha telefonato che voleva iscriversi al blog, ha detto vediamo come ti comporti fino al 25. Allora, non ci credeva nessuno, è un sogno, è un sogno che sta diventando realtà e quando un sogno è condiviso da 10 milioni di persone è straordinario, diventa una cosa meravigliosa, stiamo condividendo qualcosa che non è più un sogno e sta succedendo, sta succedendo! Io arrivo dalla Sicilia, dalla Sardegna, migliaia di persone in Sicilia, migliaia di persone in Sardegna, il solito servizio del Tg1 che mi guardano da sopra, mi fanno vedere da sotto, grido, dico due parolacce, ho detto minchia, minchia, hanno preso quello lì dalla minchia e l'hanno mandato al Tg1, Grillo dice sempre le parolacce, Grillo grida, io stasera non voglio gridare, voglio parlarvi del Tg1 che è qua, del Tg2 che è lì, di Canale 5 che è lì, di Rete 4, questo è il gradimento, questo è il gradimento, voglio parlarvi dei mezzi di informazione che depistano e voglio dirvi che cosa faremo i primi 100 giorni, ecco perché il nano, lo psico nano che non si capisce cosa faccia, va in televisione a terrorizzare le vecchiette, Grillo è cattivo, Grillo è cattivo, è vero, è vero, siamo cattivi con Berlusconi, saremo molto cattivi ed è molto vero e le prime cose che faremo con l'informazione, saremo anche un po' cattivi con l'informazione perché non è giusto che ci dovete trattare così da anni, non è giusto che una televisione pagata da noi con un canone, la RAI, parlo della RAI, gli altri non mi interessano, la RAI ha 13 mila dipendenti, costano 1 miliardo e 700 milioni dei nostri soldi e dei soldi dei vecchietti che vogliono terrorizzare, eppure più di un miliardo di euro vanno dati fuori a lavorare a società che non si capisce chi sono, abbiamo chiesto, abbiamo la vigilanza RAI, chi sono le 5 società che gestiscono un miliardo di euro dei soldi pubblici della RAI? Il Consiglio di Amministrazione ha detto c'è la privacy, c'è la privacy, chi è morto e stramuorto c'è la privacy, scusate, scusate, mi è scappato, mi è scappato, mi è scappato, non dovevo, non dovevo, l'ho fatto per il TG2 che ci faranno i titoli con chi è morto. Nei primi 100 giorni faremo questo, ecco perché ci odiano, ecco perché sono molto preoccupati, perché noi facciamo quello che diciamo e allora con la stampa vedremo come andremo avanti, non possiamo essere di nuovo collocati al settantesimo posto della graduatoria mondiale come paese semilibero nella graduatoria di House of, come si chiama a caso? Vabbè lo sapete meglio di me. Siamo sempre condannati a essere un paese semilibero con queste informazioni, sembra che io ce l'abbia solo con l'informazione e con chi me la devo prendere, se siamo in queste condizioni, se siamo in queste condizioni con chi me la devo prendere? Chi era che andava in giro a parlare nei palazzetti e nelle strade? Io non sono cambiato, sono sempre quello lì, gridavo due anni prima della Parmal, guardate di non comprare che è fallita l'azienda, sarebbe bastato 30 secondi di un TG1 invece di dire minchia minchia e farmi vedere così e salvavamo il risparmio di 30.000 famiglie. Dov'è? Dov'è? Noi faremo nei primi 100 giorni questo, abolizione dell'albo dei giornalisti, non c'è in nessuna parte del mondo fuori, abolizione dei finanziamenti agli editori, se vuoi fare un giornale lo fai pagato dai tuoi lettori, se no chiudi. E invece loro, 2013 finanziamento ai giornali di 140 milioni di euro, 2014 190 milioni di euro, si sono aumentati la paghetta di 50 milioni dei nostri soldi e allora finanziamo l'unità con 6 milioni, il giornale con 4, il foglio con 5, con 1,5, 2, con tutti i giornali, con solo 24 ore con 20 milioni. Allora, dove mai nel mondo c'è una confindustria nel mondo che abbia una radio e un giornale? Non esiste, o fai l'editore puro o se no cedi le quote, faremo la prima cosa così, chi vuole fare un giornale o gestire una televisione, massimo il 10% delle azioni, massimo il 10% dell'introdo pubblicitario, se no fai un altro mestiere. Non è possibile avere i giornali in mano alle banche, in mano agli imprenditori e in mano agli industriali, basta. Grillo è un fascista, ho preso qualsiasi titolo, noi siamo fascisti, guarda che fascismo abbiamo fatto, guarda cosa succede, abbiamo fatto la legge elettorale online, ci abbiamo lavorato 230 mila persone per 8 settimane insieme a dei giuristi, insieme a degli specialisti della Costituzione, perché è complicatissima la Costituzione e abbiamo tirato giù una bellissima legge costituzionale, cosa che non hanno fatto questi cialtroni, che hanno fatto il pregiudicatellum, l'hanno chiamato italicum, cazzo italicum, ha fatto una legge elettorale per tenerci fuori e chi l'ha fatta la legge elettorale? L'ha fatta uno che si chiama Lebetino, Lebetino mi ha detto perché non hai parlato con lui, perché non hai parlato con lui, me lo sento sempre dire ancora, io sono andato lì, sono andato lì per parlare con Lebetino, ma prima di sedersi lì davanti allo streaming, perché lui non ha voluto la televisione in diretta, lui che è saltella da una parte all'altra, non l'ha voluta lì la televisione in diretta, allora abbiamo messo il nostro streaming e allora prima di sedersi lì mi prende e mi dice senti Grillo, con un fare amichevole, Beppe, Beppe, scusa Beppe, abbi paziente, sì, stai sereno, stai sereno, non ho bisogno, cioè come mi ha detto stai sereno mi toccavo già i coglioni, va bene, no, mi ha detto, sai, mi ha detto, senti cosa mi ha detto, mi ha detto io, io non ti chiedo niente, non voglio la tua fiducia niente, non ti voglio chiedere niente, voglio solo che tu mi stia a sentire perché devo dirti delle cose, hai capito cosa voleva fare? Volevo che io stessi a sentire il suo compitino e il suo compitino era il nostro programma e allora avrei dovuto annuire, sentire questo che mente, sapendo di mentire e allora ho detto ma che rapporto c'è tra me e lui? Mi è venuto in mente quel momento lì, chi è questo qua? Io in fondo, non per megalomania, ma in fondo, io lì rappresentavo 9 milioni di italiani, lui non rappresentava nessuno e allora? E allora io devo stare a sentire lui? Ma allora? E allora? E allora? Signori, allora mi sono sentito e è andata come è andata e ho fatto benissimo e non mi pento di quello che ho fatto, allora perché questo? Questo è un paese che si è rovesciato e si sta rovesciato e sta andando a velocità della luce, sta andando a velocità della luce e non abbiamo più tempo, non c'è più tempo, un paese è rovesciato, è un paese che una partita di calcio si trasforma in un funerale della Repubblica perché mi è venuto un cuore così, un cuore così, quando ho visto Jenny a Carogna, ma Jenny a Carogna adesso l'hanno condannato a non frequentare gli stadi per 5 anni, ma che cazzo? Ma si ha salvato la partita, se non era per lui non giocavano, c'era il commissario che andava da lui e diceva signor a Carogna, scusi, possiamo giocare o no? Giocato, numero un buon cazzo, giocato, ecco cos'è oggi, e mentre Jenny in la Carogna, Jenny in la Carogna erano allo stadio, sugli spalti c'era Renzi a menzogna, Renzi a menzogna, ora, ora, e ho visto il funerale della Repubblica quando è partito? Lino d'Italia, Fratelli d'Italia, che c'è stato fischi, 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 e Lebettino l'imperterrito, Lebettino l'imperterrito a stare a sentire i fischi e lui era rappresentante primario dell'Italia lì, sugli spalti, ma vi immaginate un attimo, ma vi immaginate un attimo, se al suo posto ci fosse stato, non so, Pertini, cazzo, scendeva con la pipa e li massacrava tutti, e lui poi, Lebettino è rimasto lì, poi se n'è andato, scattaiolando sulla sua auto, non più blu, ma carta zucchero, perché quella non venduta su Ebay ne hanno venduto sei, allora si può, si può assistere a una roba così, si può andare a vedere la menzogna, così la menzogna avvallata dai mezzi di informazione, ecco perché ce l'ho con loro, la menzogna, abbiamo abolito le province, sappiamo che non è vero, perché adesso entriamo con loro sulle carte, giocano sulle parole, cambiano l'effetto sulle parole, allora la Corte dei Conti un mese fa ha detto una cosa che io ripetevo in tutte le piazze d'Italia, mi ha fatto piacere, perché ha detto che stanno fregando con la semantica, la Corte dei Conti, ha detto che i partiti hanno rubato 3 miliardi e mezzo di soldi pubblici chiamandoli invece che finanziamenti e rimborsi, con una truffa semantica, lo dice la Corte dei Conti, allora nei primi 100 giorni la cosa che faremo è questa, li manderemo a casa e il giorno dopo faremo una verifica fiscale e vogliamo sapere dove vanno a finire, dove vanno a finire, sono andato a finire, 3 miliardi e mezzo dei nostri soldi, la gente sta agonizzando e loro hanno le fondazioni con migliaia di appartamenti dentro e allora il nano, lo psico nano che sta al tela, io quando vedo il nano di nuovo che ha fatto l'assist a Renzi adesso, ho letto un libro di Edgar Allan Poe, descriveva una tortura medievale che si chiamava il morto e il vivo ed era una tortura vera nel medioevo, legavano un morto a un vivo, quando vedo Renzi e Berlusconi non so chi cazzo è il morto e chi è il vivo, perché sono tutte e due morti e allora ecco che si fanno i favori, sotto i nostri occhi si fanno i favori, io ti tolgo un po' di danni che puoi fare tu colluso con la mafia, ti cambio il 416 ter, ti metto la pena più bassa, se ti metto a 4 anni la pena, la collusione ne patteggi due, entri in prescrizione, se entri in prescrizione non hai più l'interdizione dei pubblici uffici e ti puoi candidare e tu mi appoggi un po' di riforme, non ne stanno facendo riforme, tutto dopo il 25, non c'è niente di scritto, l'unica legge elettorale che hanno fatto questi due mettendosi in uno studio di notte, uno che non può votare, uno che ha condannato Renzi, è condannato in primo grado per danno errariale, l'altro non ne parliamo, non entra più nel Senato perché l'abbiamo mandato via noi cari signori, abbiamo fatto il voto palese perché se non c'era il voto palese era ancora là il nano, ora io devo stare attento come parlo perché se dico psiconano poi arrivano la società dei nani e mi dicono ti denunciamo e cazzo aveva, anche la società dei psicotici del PD mi ha detto guardi denunciamo anche noi se ci chiama psicotici, allora questo è un paese alla rovescia che non c'è più, non c'è più lo Stato, lo sapete meglio di me, lo Stato non si manifesta più e di cosa parliamo? Se non parliamo dello Stato che non c'è, di che cosa parliamo? Lo Stato oggi è la tua cassetta delle lettere, il rapporto che hai con lo Stato è di ansa, guardi la cassetta delle lettere e ti aspetti che da un momento all'altro, Dio mio eccola, ecco che esce lì, esce la lettera di Equitalia con scritto entro e non oltre, un'altra nostra battaglia non adesso sotto elezioni, ma un'altra nostra battaglia è l'abolizione di Equitalia e adesso il 20 andremo a Pescara che c'è, la messa l'asta di una casa, di una persona che ha un handicapato dentro, andremo là a guardare in faccia chi si va a comprare una casa sfrattata con dentro un handicapato, li andiamo a guardare negli occhi, il 20 di maggio a Pescara, l'impignorabilità della prima casa, guardate mi faccio prendere anch'io, mi faccio prendere come se io volessi convincervi a votare il movimento, guardate non sono così io, non sono così ipocrita, non sono così, io voglio solo farvi capire che abbiamo una grandissima importanza, c'è una grandissima prova adesso ed è l'elezione più politica della nostra vita, sono le elezioni che non sa nessuno, le elezioni che il 30% degli italiani non sanno che ci sono le elezioni europee il 25 di maggio, non lo sanno, questa è la loro forza, non farvi sapere, mettervi lì, imbambolare, farvi avere paura perché quando non capisci hai paura, senti queste sigle spread, senti BCE, VTO, LTRO, senti queste cose e ti ritrai e vivi con l'ansia, questo è un paese che una persona per bene ci vive con fatica, sei sempre ansioso, hai paura che ti succeda qualcosa, fiscalmente è quello perfetto, quello per bene che sta male, non quel disonesto perché il disonesto lo sa e prende tutte le precauzioni quando c'è una visita nel fisco, bisogna cambiare il rapporto, vedete perché è nato il Movimento 5 Stelle, non è mica per andare lì e cambiare una classe politica con noi, non siamo in grado, noi cambiamo un sistema, un pensiero, siamo costretti a pensare in un altro modo perché non c'è un piano B, sta implodendo tutto e non abbiamo un piano B e questo è il piano B del Movimento 5 Stelle, quello che siamo riusciti a fare, magari non è tanto per voi o per alcuni di voi, ma il comunismo è fallito, il comunismo è fallito perché è stato applicato male, il capitalismo non è stato applicato male, sta fallendo perché è questo il capitalismo, non c'è il capitalismo democratico etico, c'è il capitalismo di rapina senza democrazia che è quello che ci sta massacrando l'economia e la vita, è per questo che io sono uscito da casa mia, perché vedevo uno dei miei sei figli che lo licenziavano al sabato e lo riassumevano a lunedì e alla domenica mi diceva cazzo papà chi sono io adesso alla domenica, ho pure un figlio in Australia e come tanti i miei amici e come tanti ragazzi di qua che se ne sono andati da questa terra straordinaria, non se ne deve più andare nessuno di qua, se ne devono andare loro, noi li faremo ritornare, li faremo ritornare e per farli ritornare bisogna andare lì, bisogna andare lì in Europa e tutta questa gente che oggi si proporrà nei comizi, che vi dirà l'Europa via dall'euro, è tutta gente che ha firmato a favore, allora noi abbiamo firmato, loro hanno firmato dei trattati incredibili, bisogna che vi dica due numeri scusatemi, poi magari facciamo delle battute separate e ve le faccio pagare un pochino, ma io bisogna che vi spieghi, perché c'è metafisica, solo la mente contorta di un comico può capire queste cose qua, perché una volta ci si passava il credito, io avevo un credito con uno, un debito con un altro, ti passavo il credito che avevo, adesso ci gestiamo il debito, il debito, io ti do il debito, tu te lo usi un po', lo fai fruttare il 5-6%, poi me lo ridai a me, lo faccio fruttare, è come se io ti rubassi il portafoglio, c'hai 100 euro dentro, me li tengo, dopo una settimana ti telefono e ti dico, senti un po', ma io non ci guadagno un cazzo con questi 100 euro, mi devi dare almeno un 5% di interesse, ma se me li hai rubati, è così, è così, noi allora, è successo questo, 2011, noi siamo sull'orro del fallimento, solo che abbiamo un debito di 1900 miliardi, e verso chi? Metà, 900 miliardi, li dobbiamo a delle banche tedesche, francesi e anglo-americane, le banche dicono se fallisce non prendiamo più una lira, non si può far fallire, tu non faresti mai fallire un cliente che ti deve un sacco di soldi, anzi lo gasi un po', dai che vai bene bastardo, dai, dammi ancora quella quotina lì, hai capito? Lo sveni piano piano, infatti mandano Monti come curatore fallimentare, Monti fa delle operazioni che tutti i parametri, da quando è entrato Monti, tutti i parametri al costo del lavoro, dal salario, dalle tasse, dal tasso di disoccupazione, sono peggiorati tutti dal PIL, è peggiorato tutto, perché? Perché le banche, la BCE non potendo prestare agli stati, prestava e presta soldi alle banche private, la BCE dà i soldi 400 miliardi all'1% alle banche private italiane, le banche private prestano al 5, realizzano il 4 di utile, il 4% su 400 miliardi, sono 16 miliardi che si mettono in verta, poi con quei soldi lì non prestano i soldi alla piccola media impresa, non possono perché con quei soldi lì ricomprano il debito che è in mano alle banche straniere e dal 2011 a oggi il debito che abbiamo verso le banche straniere, dal 50 è passato al 30, passa ancora un anno, un anno e mezzo, due, ma neanche un anno, si riprenderanno i loro crediti e appena si saranno ripresi tutti i soldi ci mollano, ci mollano come la Grecia, noi non siamo più appetibili come mercati, non siamo appetibili, i mercati nuovi sono il Messico, l'Unione Sovietica, sono il Sud America, sono questi, noi paesi del Sud Europa siamo lasciati così in balia di noi stessi, e allora adesso abbiamo un 30% di debito, possiamo avere una forza contrattuale, perfetta, andiamo là, perché non è un debito verso gli italiani, è un debito verso banche straniere, e allora possiamo andare lì e dire sentite, o ce lo spagniamo questo debito, o ci allungate il debito, o ci diminuite il tasso di interesse, se no non vi diamo un cazzo di niente, va bene? Allora, si può fare o no? Eh, è pazzo, grido populista, sei un populista demagogo, demagogo! Ah perché non c'è stato casi che l'hanno fatto, non l'hanno fatto, non l'ha fatto il Presidente del Presidente dell'Equador non l'ha pagato col fondo monetario, non l'ha pagato un sacco di nazione, la Germania, la Germania nel 1953 aveva 25 miliardi di euro dell'epoca di debiti per danni di guerra, è arrivata e ha pagato solo l'Unione Sovietica perché si steneva i prigionieri e li faceva lavorare gratis, e poi alla fine Col, quando hanno aperto il muro, la DDR è diventata unica con la Germania dell'Oves, ha detto non possiamo permettere di pagarci il debito e non l'hanno pagato e noi non possiamo fare, noi vogliamo essere precisi, noi vogliamo andare lì a vedere cosa hanno firmato e chi l'ha firmato, perché il trattato del fiscal compact, questa parola fiscal compact sembra un cazzo, una quattro ruote motrici fiscal compact, il fiscal compact è un trattato, un impegno che abbiamo firmato per diminuire della metà del debito in vent'anni, il nostro debito è 2.100 miliardi, la metà è 1.100 miliardi, 1.100 miliardi 5% all'anno per vent'anni, devi tagliare 55 miliardi all'anno per vent'anni, gli economisti vanno in televisione, questi pezzi di merda dei giornalisti, no no ferma, ferma, ho detto pezzi di merda, no no mi è scappato, ritiro, ritiro, questi giornalisti fanno dire agli economisti, questi che non hanno azzeccato a uno agli economisti, li fanno dire non è vero, non è vero perché c'è la crescita e allora dobbiamo tagliare solo niente, quasi niente, per tagliare quasi niente bisognerebbe crescere da 8 a 12% di percentuale, dall'8 al 12 che è la percentuale del 1960 dell'anno del boom, la nostra crescita fino all'anno scorso 2013 è stato meno 1,9, il fondo monetario ha detto per il prossimo anno sarà 0,3, 0,4 se vi va bene, quindi una crescita dell'8 del 12, la probabilità detto il fondo monetario è 0,0, quindi dovremo tagliare 55 miliardi ogni anno per vent'anni, ma 55 miliardi sta già avvenendo e allora chi ha firmato questo? 2011, 27 di luglio, festiva dell'unità, Floris, intervista, Gargamella, Bersani, Gargamella al festiva dell'unità, Floris, andatevelo a vedere, mettete Floris, Bersani, festiva dell'unità, fiscal compact, alla domanda ma voi firmerete un trattato così? Lui dice andatelo a vedere per piacere, lui dice non firmeremo mai una cosa così che strangolerebbe, bisognerebbe essere pazzi, due mesi dopo il PD unito all'unanimità hanno firmato, il PDL nella presenza di Tremonti dice sarebbe un suicidio economico e sociale firmare una cosa così, dopo tre mesi hanno firmato all'unanimità, questa è la gente con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, noi non abbiamo firmato un cazzo, noi andiamo là, prendiamo il fiscal compact e glielo strappiamo davanti alla Merkel che dirà, perché Renzi ci è andato, Renzi ha fatto e lei gli ha detto e lui ha detto Yavul, noi non diremo Yavul, noi toglieremo quel ricatto morale, sociale, economico che ci ha reso dipendenti da gente che non vogliamo neanche averci più a che fare con questa gente qua, poi abbiamo i nostri sette punti che porteremo lì, il debito, se abbiamo ancora del debito dobbiamo diventare una comunità, perché l'Europa, scusate, l'Europa, allora pensate un attimo che cos'è l'Europa, essere europeo cosa significa? Io non lo so, io so solo che le elezioni del 2009 su 335 milioni di aventi diritto al voto sono andati, non sono andati a votare 220 milioni, cioè 220 milioni non vanno a votare, quindi non abbiamo un Parlamento, avrebbero 450 seggi i non votanti su 750 quanti sono, non si vanno a votare, però gli italiani fanno una cosa meravigliosa, senti questa perché noi abbiamo dei primati meravigliosi, gli italiani invece vanno a votare, 2 milioni di italiani, vanno a votare le europee, ma votano in bianco o schede nulle, vuol dire che vanno là, votano, votano, ma non sanno che cazzo votare e pure ci scrivono vaffanculo in 18 lingue, perché 2 milioni sono la popolazione della Finlandia e della Svezia messa insieme, se noi intercettiamo questi che ci vanno è fatta, è fatta, e allora che cosa significa un'Europa così, un'Unione, io voglio una comunità, se è una comunità spalmiamo il debito, la Grecia si poteva salvare, aveva il 2% del PIL europeo perché non l'abbiamo salvata, invece di ridurla così, dove 8 condomini su 10 non hanno più la corrente elettrica, perché verranno anche qui a gestire le nostre cose se dobbiamo tagliare 50 miliardi all'anno, cosa pensate che facciano, cosa pensate che siano queste multinazionali che gestiscono l'elettricità, l'acqua, il gas, gestiscono la vita dei cittadini, sono le stesse che le gestiscono in Sudafrica, in Sudamerica e in Grecia, e allora come fanno a farsi pagare? Schede prepagate, tu paghi prima con una scheda prepagata e se non paghi ti tolgo la luce, il gas e l'acqua, e così 8 condomini su 10 in Grecia, non hanno, vivono con la legna, con la legna nei condomini, io non ci sto, non ci sto e non ci dobbiamo stare a fare una roba così. Bene, bene, allora che cos'è? 28 lingue, 28 lingue, un terzo del bilancio, perché noi siamo il terzo finanziatore dell'Italia dell'Unione Europea, noi li diamo lì mediamente diciamo miliardo più o miliardo meno, gioia, facciamo un applauso a lei che è l'interprete della lingua dei sordi, quanti siete, dove siete? Perfetto. Questo si capisce, è internazionale. Va bene, allora, che è? 28 lingue, traduzioni, una legge lituana tradotta in portoghese, ritradotta in olandese, ritradotta in estone, in italiano, cosa diventa? Chi sono i traduttori? Un terzo del bilancio, ripeto, che sono soldi nostri, noi siamo il terzo finanziatore d'Europa, diamo 15 miliardi, pesa 15 miliardi, più o meno, ce ne ritornano 9, questi 9 vanno in tre regioni, Campania, Sicilia e Calabria, in progetti che non si riesce a capire, perché io sono andato a vedere, per esempio Lazio, per esempio la Sicilia, 200 progetti, mi sembra 5 milioni di euro, 200 progetti, vai a vedere dove sono, cosa sono, e c'è il nome di una società, SRL Pinco Palla, il nome del progetto Cinzia, Cinzia, e 50 mila euro dati a Cinzia, della Pinco Palla SRL, questa è l'informazione che ci arriva, se andiamo lì noi, i nostri soldi devono avere una faccia, un nome, un responsabile e il progetto lo devi descrivere in rete, se no non prendi una lira! la trasparenza, ma guardate che non siamo mica più onesti degli altri, se tu metti un faro su chi ruba, non ruba più, noi non siamo più onesti degli altri, guardate che vi state sbagliando, perché non è un pregio essere onesti, la nostra onestà è un tic, è un tic nervoso, io non mi sento superiore, io sono così, io non lo metto nel culo al mio prossimo, perché mi viene naturale, va bene? Quindi non ho delle prerogative in più, quindi vorrei capire, e allora questi 9 ce li ritornano, se ne tengono 5 o 6 li tengono là, sono nostri i soldi, ne tengono 5 o 6 perché è l'unità, è l'unione, una parte di questi soldi vanno a finanziare il governo rumeno che fa degli sconti fiscali a 36 mila aziende italiane che delocalizzano là e fanno tre punti di PIL per la Romania, allora io cosa ho detto quando sono andato là con un avvocato e con un magistrato? Ho detto questi soldi qua che date al governo rumeno, ce li teniamo noi perché li usiamo per le nostre imprese che devono stare in Italia con la defiscalizzazione che fa la Romania, ne li facciamo uguali, allora vanno a Piombino, Piombino chiude, Taranto chiude, andiamo lì e dico ma cazzo ci saranno 3 o 4 mila prepensionati, in Europa c'è un fondo che serve per l'ambiente, per pulire gli ambienti, pensa per risanare l'ambiente, c'è un fondo che si chiamava CECA, Comunità dell'Acciaio e del Carbone, quindi i lavoratori dell'Acciaio e del Carbone hanno messo da parte quasi 2 miliardi, non gli stati, i lavoratori e i sindacati di tutta Europa, una parte di questi soldi sono i nostri, servono adesso per pensionare migliaia di lavoratori che devono andare a casa e li tengono bloccati lì, chi li tiene bloccati lì? La Merkel, l'Olanda per lavorare con le loro acciaierie e far chiudere le nostre, noi non permetteremo questo perché loro non li danno, perché li mettono a frutto, hanno 2 miliardi, perché devono dare? Li investono in titoli AAA, l'unico titolo AAA dell'Europa è la Germania e quindi noi diamo i soldi, abbiamo dato i soldi che servirebbero ai nostri lavoratori che sono lì, investiti in titoli AAA dei buoni del tesoro della Germania che ogni tanto con questi interessi ce ne danno una partina così per ricerca, qualche milione ogni tanto per farci contento. Voi non sapete quello che succede lì dentro, voi non sapete già, abbiamo già scardinato il nostro Parlamento, avete visto che succede di tutto, di tutto, ma non sapete che parte tutto da là? E io sono anni che sto battendomi su queste cose qua, non c'era neanche il movimento, vi parlavo dei maiali olandesi che arrivavano in Sicilia, arrivano i maiali olandesi, ma io è pazzo, i pastori sardi un giorno erano a Porto Torres, stavano passando di lì e sentono una nave mercantile si ferma e sentono belare, belare delle pecore, il pastore dice, la pecore su casa su pecore e capisce che non bela in sardo perché belava in rumeno, erano pecore rumene che venivano in Sardegna, facevano il pecorino sardo in Sardegna con la pecore rumene, ma di che cazzo stiamo parlando? Le arance siciliane per terra marcire e per importare le arance tunisine, ma di che cosa stiamo portando? L'olio, l'olio pugliese, il miglior olio del mondo, questa è una ruffianata, gridatemi ruffiano, ma è vero, ha vinto il premio mondiale anche quest'anno, l'olio pugliese, allora abbiamo 30.000 piccoli coltivatori, fantastici, fanno delle cose meravigliose, noi siamo il secondo produttore del mondo di olio d'oliva, secondo, secondo e siamo il primo importatore di olio del mondo, allora Made in Italy, noi importiamo l'olio di merda lampante del spagnolo, lo tagliamo col nostro, lo mettiamo lì come Made in Italy, abbassiamo il prezzo e diventiamo concorrenziali, distruggendo le economie reali, piccole, del piccolo e medio imprenditore che fa le cose per bene e allora basta. Allora i finanziamenti europei adatti alle multinazionali non ci devono più essere, i finanziamenti europei li controlleremo e andranno all'allevamento, all'agricoltura e al Made in Italy vero, perché siamo una forza pazzesca. Noi abbiamo questi punti, il pareggio in bilancio, mettere il pareggio in bilancio nella Costituzione, il pareggio in bilancio in Costituzione è la più grande delega del nostro sistema fiscale alle banche, non possiamo più muovere nulla, ma perché io devo avere un obbligo? Non c'è scritto sul trattato, c'era scritto preferibilmente mettere in Costituzione, perché l'hanno messa in Costituzione? E non puoi più sforare, io voglio sforare, come un buon padre di famiglia, io posso non fare i debiti o posso fare un debito per far studiare mio figlio, nessuno mi deve impedire, nessuno mi deve impedire perché vi dico ci sono due tipi di debito, c'è il debito che ha in mano il popolo italiano e il debito che ha in mano le banche, sono due cose diverse, perché il Giappone, una delle prime economie del mondo, ha il più alto debito dopo gli Stati Uniti del mondo, con 20 mila miliardi di debito, il nostro è 2 mila, 10 volte di più, 10 volte di più, i suoi BTP, i BTP giapponesi sono della banca giapponese, statale, di Stato, quando il popolo è in sofferenza non chiede tassi alti, li abbassa, abbassa, tanto che abbassa che ha lo 0,6 il tasso sui BTP minore del mondo, e cosa fanno? Stampano soldi, hanno la banca, ogni tanto stampano, sai quanto stampano in yen? L'equivalente di 3.500 miliardi di dollari ogni anno, e cosa fanno con questi 3.500 miliardi, una somma incredibile? Investono innovazione, università, piccola impresa, strutture nel mercato interno, nel mercato interno, e per la prima volta il Giappone ha azzerato, ha quasi azzerato la disoccupazione, non c'è più disoccupazione in Giappone, eppure hanno il debito alto, quindi non è detto che il debito sia un male, è un male quando è tenuto dalle banche straniere. Signore, io di banche me ne intendo, arrivo adesso, è lì, se vai a vedere la piramide, e guardate che la piramide del potere oggi, se vai a vedere ci sono, sopra 147 multinazionali, poi vi dico chi sono, le 147 multinazionali manovrano 13.000 multinazionali sotto, che sono in rapporto con le altre 43.000 nel mondo, quindi vuol dire che l'1% delle multinazionali controlla l'altro 50%, e l'1% delle multinazionali sono banche. Allora, non devi chiudere le banche, devi andare lì e dire adesso basta, o fai la banca o fai lo speculatore finanziario, si dividono le due cose, come abbiamo chiesto noi nel nostro programma, perché noi non abbiamo programmi, ma se tu fai una banca, fai un SPA, l'SPA deve fare dividendi, io ci sono andato nella più grande banca d'Italia, sono andato al Consiglio di amministrazione, tre volte ci sono andato, sono andato, l'Unicredit, una delle più grandi banche d'Europa, con profumo, c'era profumo, direttore generale, amministratore delegato Unicredit, 2011 saldo attivo di un miliardo, 2012 saldo negativo di 3 miliardi, 2013 saldo negativo di 13 miliardi, dove sono andati a finire i soldi, una banca in bancarotta è profumo, se ne va con 40 milioni di euro di bonus di uscita, questo è il marcio del nostro Paese, primo, e va al Monte dei Paschi, va al Monte dei Paschi, io lo seguo al Monte dei Paschi, io lo seguo come un'ombra, vado là, compro due azioni, tanto non valgono più un cazzo, una banca che nel 2005, la più vecchia banca del mondo, nel 2005 la banca Monte dei Paschi di Siena valeva 22 miliardi, 22 miliardi di euro, oggi a malapena due e mezzo, le azioni erano a 5 euro, oggi 10, 20 centesimi, vuol dire che hanno fottuto tutto il TFR dei loro dipendenti, perché il TFR dei loro dipendenti, miliardi di dipendenti, li investivano con azioni pagate 4 o 5, ora non valgono più niente, ha fottuto tutti i piccoli azionisti, i veri proprietari della banca, sono lì a sentire i consigli di amministrazione che li prendono per il culo con bilanci completamente finti, per cercare di recuperare qualcosa che non recupereranno mai. Io vado lì e faccio l'analisi, dico nel 2005 vi siete quotati in borsa con una fondazione, dentro la fondazione chi c'era? Il CDA della fondazione del Monte dei Paschi, chi l'ha nominato? E loro mi dicono l'ha nominato il comune di Siena, PD, la regione di Siena, PD e la provincia di Siena, PD. E allora ho detto, quale sarà il partito? Quale cazzo sarà? E' che non c'è più un partito, il PD e la banca, e la banca è il PD. Allora sono andato lì e si sono mangiati 20 miliardi, uno si è buttato dal terrazzo, hanno comprato banche a 10 e rivenduta a 5, hanno fatto aggiottaggio, hanno fatto qualsiasi demancio, uno è morto, almeno la responsabilità morale qualcuno se la dovrà prendere. E allora Profumo entra lì, mancano 20 miliardi e che cosa fa? Se fossi entrato io come amministratore a qualsiasi di voi avrei cercato i soldi, chi li ha presi? Faccio un'indagine, voglio i soldi indietro, dove sono? Non sparisce nulla. Se mancano 20 chi li ha presi? E allora quello che doveva fare è mettere sotto processo tutto il vertice del PD dal 95 a oggi e tutta la Consob che doveva controllare e la Banca d'Italia che si sono dimenticati. Banca d'Italia hanno fatto un depauperamento di valore, si chiama depauperamento di valore, state attenti a dire che hanno dato un miliardo e sette alle banche private perché dicono noi non abbiamo dato niente, racconti delle frottole, in effetti non c'è stato un esborso di un miliardo e sette, è come se io ti cedo un terreno agricolo e ti mando la legge, te lo faccio diventare edificabile, guadagni cento volte ma io non ti do soldi. Loro pensano che noi siamo coglioni. Allora un miliardo e sette e io di nuovo ho visto lì, non c'era ma era ancora peggio, non c'era Jenny a Carogna ma c'era Sel e il PD che mentre davano questo miliardo e sette di disvalore alla banca nostra cantavano la canzone dei partigiani o Bella Ciao. Lì mi sono vergognato, ho pensato ai nostri padri che si sono fatti un culo così. Questi figli, non ci sono più i figli degli operai, ci sono i figli dei massoni! Che vergogna! E diamo la nostra banca, la nostra banca, Banca d'Italia con 2500 tonnellate d'oro, poi fanno azionariato diffuso, non possono ottenere più del 3%, quindi azionariato diffuso solo per aziende e solo per finanziari europei, quindi chi entrerà nella Banca d'Italia? Ci stanno già entrando, ci stanno entrando i fondi pensione inglesi, ci stanno entrando i black rock americani, il black rock si sta comprando tutte le banche, entrano nei CDA, Renzi ha fatto questa privatizzazione dell'Eni, dell'Ene, ci ha messo tutti i suoi nel CDA, c'è il suo avvocato, il suo commercialista, sta svendendo il paese, quest'uomo è pericoloso, io lo prendevo per il culo, non mi sento più di prenderlo per il culo, uno che fa delle cose così e dice quelle cose lì, questa è una persona malata, come sono tutti malati i banchieri, i figli dei banchieri, i figli dei massoni, non hanno una sensibilità umana, non ce l'hanno più, hanno dei numeri e se questi numeri fanno ammazzare migliaia di persone, loro non capiscono, questi non vanno combattuti, questa gente non va più combattuta, questa gente va spazzata via come cibo deteriorato, avete capito sì o no? Basta, basta, o ci credete o ci credete questa volta? No, ma è così, e allora vedere che ti danno 80 euro così come un cotioni, un detersivo che ti dicono è esclusivo e poi per tutti uguali, veramente guardi, c'è una malattia che si chiama alexitimia, alexitimia o alessitimia, è la stessa cosa, l'alessitimia è l'incapacità di riconoscere, perché non hai le parole, le emozioni tue e quelle degli altri, infatti sono tutti così, i banchieri sono così, fanno dei conti, da Monti che faceva 2 più 4, allora facciamo le cose, a quell'altro che è scomparso, quello è andato in Arabia Saudita, è andato in Arabia Saudita e poi non si è più ripreso, ve lo ricordate? Andato in Arabia Saudita, ha preso 500 milioni, poverino, le spese, gli hanno dato gli arabi e poi è scomparso, perché dietro c'era già Renzi per fargli le scarpe, c'era già uno che non è stato eletto da nessuno che fa il Presidente del Consiglio, e allora è un Parlamento, noi abbiamo fatto la legge, ce l'ho qua, io ve la voglio leggere, perché questa è un'opera d'arte, non l'ho fatta io, l'hanno fatto 300 mila cittadini, non l'ho fatta io, 10 settimane di studio, non c'è la legge migliore del mondo, non ci può essere, è complicatissima una legge elettorale, ne abbiamo 6 diverse per i comuni, per le regioni, è caso per la provincia, per le nazionali, per le europee, sono leggi diverse e ognuno dice il maggioritario proporzionale, noi abbiamo messo ai voti, è la prima volta che si mette ai voti e si fa un'operazione democratica in questo cazzo di paese, non ci siamo messi in un angolo di nascosto a fare una legge con i massoni, e l'abbiamo presentata, l'abbiamo presentata in Parlamento, è chiaro, è chiaro, ma non possono neanche fare la loro, l'Italia è un loro fatto per non farci partecipare a noi, non lo fanno per i cittadini, perché se facessero delle leggi per i cittadini non diremo niente, saremo d'accordo, lo fanno per non far partecipare noi alla gara delle elezioni, hanno fatto una legge talmente del cazzo che se la applicassero vinciamo noi, ma te pensa? E allora non possono più applicarla, poi è un Parlamento, questo è un Parlamento che non ha legittimazione a fare nulla perché non è stato eletto da nulla, l'ha detto la Corte Costituzionale, ecco perché, ecco perché se noi, è certo, noi dobbiamo andare alle elezioni, poi chi vince? Quel Parlamento lì sarà legittimato a fare la legge elettorale, noi ce l'abbiamo già pronta, e allora noi facciamo così il giorno dopo della vittoria, il giorno dopo della vittoria? Perché noi non abbiamo il minimo dubbio e lo sanno anche loro, abbiamo fatto un sondaggio dei nostri, un po' di parte, ma comunque siamo quasi all'87%, quindi c'è ancora quel 13%, c'è ancora quel 13%, noi vinceremo. Guardate, io ho votato come tutti, ci stanno guardando tutte le televisioni del mondo, ci stanno dicendo ma avete fatto una cosa che non esiste al mondo, abbiamo fatto le primarie, abbiamo fatto le lezioni online, io ho votato con un cellulare, in macchina, ho preso il mio candidato della mia circoscrizione, i tre, ho guardato un po' il curriculum, ho visto il filmato e ho votato, tempo 8 minuti, non ho speso nulla e per la prima volta poi i 73 candidati che sono qua, alcuni, li conosco stasera, i 73 di Milano, è vero sì o no? Io non li ho conosciuti, cioè io che sarei quello che nomina dall'alto tutti, sono arrivato lì e ho detto ma che cazzo siete? E loro mi hanno detto che cazzo sei tu? Cominciamo bene il rapporto, è fantasia. Bene, è la critica che vi fanno e che ci fanno che non siete conosciuti, è il nostro orgoglio che non siete conosciuti, è la nostra fiore dell'occhiello, è il nostro fiore dell'occhiello, non hanno capito niente, non hanno capito niente e soprattutto non sono conosciuti alle procure, è bellissimo, sono spaventati, sono spaventati dalle persone per bene, lo capite? Tu dici che ti spaventa il delinquente ma oggi quello che spaventa la persona per bene, abbiamo una forza pazzesca e loro non capiscono, quando tu introduci un onesto là dentro, l'onesto, lo guardano chi è quello lì? È l'onesto, stai zitto, ma come? Cammina come noi? Sì, cammina come noi, ma cosa fa l'onesto? L'onesto va a vedere le leggi, ma davvero non l'ha mai fatto nessuno che va a controllare le leggi, perché se vai a vedere il padre di stabilità, le leggi, nessuno è in grado di capire, se non quell'elite di mascalzoni parassiti, ma se no c'è Coma 7 che modifica il Coma 5 del Coma 14, che va a modificare la legge 17 del 1989, e l'uno firma, perché gli dicono firmi, schiacciano verde e rosso, non sanno cosa hanno firmato, però l'onesto cosa fa? Andiamo a vedere il Coma 7, e quelli dì, ma no lascia stare, dai, no, e allora ecco che vedi che nei decreti che fanno che devi dire sì o no in quattro ore, allora il femminicidio, devi votare il femminicidio, la protezione sulla violenza delle donne, basta dieci secondi, chi è contro? Però dentro ci mettono per esempio un condonino, un condono per gli edifici pubblici, ci mettono di nuovo un finanziamento per la sicurezza della TAV dentro il femminicidio, noi diciamo, scusi, femminicidio siamo d'accordo, ma questi qui diciamoli a parte, non si può, devi votare sì o no, e cazzo, la prima volta abbiamo votato no, i giornali, i giornali, il Movimento 5 Stelle a favore della violenza sulle donne, è vero? E così con i 7 miliardi e mezzo alle banche, così con i 7 miliardi e mezzo, è uguale, è uguale, è uguale, ecco perché poi, ecco perché, e che cosa fanno? Che cosa fanno? Si chiudono dentro, si chiudono dentro, allora anche le persone più normali, più normali, si chiudono dentro e votano senza di noi, senza dieci milioni di persone, si chiudono dentro e lo fanno nei comuni, lo fanno nelle regioni, l'hanno fatto un mese fa alla regione Lombardia, con i nostri consiglieri regionali, chiusi fuori dalla regione, chiusi consiglieri votati dal popolo italiano, chiusi fuori perché dovevano votare gli appalti dell'Expo, allora noi cosa abbiamo chiamato i carabinieri, i carabinieri non possiamo fare niente, si sono chiusi dentro per dare il loro cazzo di appalti, allora abbiamo preso due pullman, 40 di loro deputati e siamo andati dentro e hanno dovuto aprire i cancelli di sta cazzo di Expo e abbiamo visto che cos'è l'Expo, non c'è nulla, c'è un campo di un milione e mezzo di metri quadri dove le opere sono attorno, dove le opere sono strade, raccordi, una strada di 15 corsie da Monza a Milano, ecco dove sono i soldi, lì c'è un campo di un milione e mezzo di metri quadri dove non c'è niente, dove potevano fare l'Expo frammentata, sparata in tutta la Lombardia che era bellissimo, arriva qua un cinese, gli fai assaggiare un formaggio a Lombardo in uno cazzo di stenni in un prato, ma di che cazzo stiamo parlando? Portalo dove c'è la piccola impresa che fa il formaggio, lo porti dove fanno l'olio, gli fai vedere delle cose che va via sconvolto, era questa l'idea di Expo. Andiamo noi con 40 parlamentari, tre giorni dopo la magistratura ne arresta 11, perché la magistratura adesso, ve lo dico col cuore, non succedeva prima, ma adesso anche loro avevano dei grossi dubbi quando tu hai tutti contro, tutta la politica contro. Adesso possono farsi forza di andare avanti perché c'è il Movimento 5 Stelle che li sorreste. Non lo dicono, ma lo sentono, lo sentono. Bene signori, io adesso voglio che parlino un po' loro, venite avanti, chi deve parlare? Ora loro si presentano, tutti quelli candidati alle europee, si presentano loro, sono loro i candidati alle europee, eletti con elezioni. Allora lui mi dice il regno di Cianianza, allora bisogna spiegarlo bene, perché io sono andato a spiegarlo il regno di Cianianza agli operai e c'era uno che ha detto vieni qua a farci l'elemosina. No, l'elemosina è la tua cazzo di cassa integrazione, sono i tuoi sindacati e gli ammortizzatori sociali, non è il reddito di Cianianza. Il reddito di Cianianza va a chi perde il lavoro, 800 euro, va a chi perde il lavoro per tre anni. In tre anni ti vengono offerti tre lavori, allora puoi anche decidere che c'è un lavoro che ti piace di più e farlo, perché se non lo fai perdi il reddito di Cianianza. Il reddito di Cianianza c'è in tutta Europa, porca puttana, tranne che da noi. E non trovi i soldi? Mi dicono che non trovo i soldi? I soldi? Cazzo se ci sono rimborsi elettorali, rimborsi agli editori, via, non li troviamo. Afghanistan? Cazzo siamo lì a fare che cazzo in Afghanistan? Il F-35, il gioco d'azzardo, non trovo i soldi? Allora ci sono in Italia 100.000 persone, che è la popolazione della Val d'Aosta, che costano allo Stato 17 miliardi, sono le super pensioni, che vanno da 5.000 a 90.000, costano 17 miliardi. Noi abbiamo già fatto la legge, non ve lo dico perché siamo sotto elezioni, non me ne frega nulla. Abbiamo già fatto una legge di mettere un tetto a 5.000 euro lordi, in modo di alzare le minime da 400 a 800, ma perché? È solo una partita di giro, non devi tirare fuori i soldi. Ne avanzano anche per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza lo finanzi con la cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali e tutti gli sprechi della cassa di politica a corpi comuni sotto i 5.000 abitanti. Togli veramente le province, le togli veramente, non che fai finta e assumi 36.000 consiglieri in più e 5.300 assessori in più. È difficile. L'immigrazione, bisogna stare attenti sull'immigrazione. Hai perfettamente ragione. Ci va meno cuore e meno cattiveria. Meno cuore e meno cattiveria. Il problema dell'immigrazione andremo a discutere in Europa. È un problema di tutti i paesi europei. Stabiliremo delle quote e stabiliremo delle assistenze giuste. Quando abbiamo aperto l'Europa... Io mi ricordo che c'era Rabonino, che era commissario, mi sembra, all'immigrazione, e l'altro di Berlusconi, ministro degli esteri, Frattini. A un convegno gli dicono, a una conferenza stampa, quanti immigrati ci sono in Italia? C'era anche Prodi? Loro si guardano, loro tre dicono... quanti... e non lo sapevano. Noi ancora oggi non abbiamo una banca dati di quanto entrano, dove vanno, qualsiasi Stato. Prova a entrare negli Stati Uniti, in Canada, nei paesi delle grandi democrazie. Cazzo! Ti fanno impronte digitali, l'occhio! Ti dicono dove vai, poi ti mettono una cosa che ti segue... Allora, non scappi. Allora, voglio dire che questo è un problema che dà identità a dei partiti che erano scomparsi. La Lega gioca su questi bassi sentimenti di mandiamoli a caso, a caso, a violenza. No? E non va bene. E fa presa, in un momento che gli italiani sono così. La sinistra, invece, apriamo le porte. Quando Bonino e quello lì, gli esteri, che ho detto, Frattini, si è aperta con la Bulgaria e la Romania, noi avevamo tre anni di tempo per prendere una moratoria e 300 milioni di soldi per organizzarci, perché sapevamo benissimo che il problema non sono questi degli sbarchi, sono quelli che arrivano dall'estero, sono i rumeni, i bulgari, sono questi qui che arrivano senza problemi, da turisti, perché possono arrivare. C'era la moratoria perché sapevamo che arrivavano i nomadi, arrivavano questa gente qua, dovevamo organizzarci. C'era il tempo e i soldi, i soldi, 300 milioni e il tempo, potevamo prendere tre anni, come la Spagna e la Germania, che ha preso tre anni di aspettativa. Ci organizziamo perché sappiamo chi arriva e chi arriverà. Vogliamo i controlli, vogliamo gestire bene e in modo dignitoso questi flussi. Invece hanno detto benvenuto a 450 milioni di europei, siamo tutti felici. C'erano già gli zingari lì che partivano per l'Italia. E allora perché hanno fatto qui? Non c'entrava il cuore, c'entravano i soldi, c'entravano i soldi di nuovo, perché la Romania ci dava il suo flusso di persone che venivano qua in cambio delle aziende italiane che aprivano l'Italia. Avete capito che cosa hanno barattato questa gente col cuore? Allora bisogna smettere, bisogna fare un ragionamento. I flussi vanno, vanno osservati, ci vogliono un database, ci vogliono organizzazioni che questa gente non ha assolutamente né la voglia né di fare. Tu puoi andare a vedere con un satellite, quando parlano dalla Libia, i porti libici quando si imbarcano in queste navi. Li vedi, li vedi dal satellite, ci sono file della Madonna per imbarcarsi e un biglietto costa mediamente da 3 a 5 mila euro. Ora c'è una legge in Italia che con 2700 euro, 2750 euro, puoi stare in Italia in 4 persone per 90 giorni in attesa di un permesso di soggiorno. E allora chi cazzo ci guadagna su queste persone qua? Dobbiamo avere coraggio e andare a vedere chi è, perché se con 2750 poi possono venire perché c'è la legge, perché ne devono spendere 3 mila, 4 mila, 5 mila in un viaggio così? Datemi una spiegazione. Allora, questi sono problemi molto seri, ma bisogna affrontarli con razionalità, senza molto cuore, ma senza cattiveria, perché quando arriva ti chiede un asilo politico, una persona non lo puoi mandare via, perché rischia la vita. Noi li mettiamo in un ricovero in 800, in un'ex scuola a Roma, sono in 800 con due bagni, due bagni e mi ha raccontato uno di questi che è scappato e non può scappare perché quando chiedi asilo devi risiedere per forza lì, un trattato, anche lì firmato un trattato. Bene, questo qui è scappato in Svizzera, in Svizzera l'hanno arrestato due mesi in carcere, in Svizzera, l'hanno dovuto rimpiattirare perché per il trattato di mulino chi chiede asilo deve risiedere nel paese, dove ha chiesto l'asilo, è tornato e ha detto non vedo l'ora di riscappare per andare in carcere in Svizzera che si stava da Dio, me l'ha detto lui. Allora, parleranno loro, io finisco qua. Il 26, abbiamo parlato, è vent'anni che parlo di rifiuti, è vent'anni che parlo di economia, è vent'anni che parlo di economia ed è vent'anni che in Italia i ministri dell'economia sono dei cazzo di banchieri. La banca, i soldi, la finanza non ha niente a che vedere con l'economia. L'economia sono le cose, sono le cose che girano, 5 miliardi di tonnellate di roba che gira con un miliardo di tonnellate di petrolio, con 20 milioni di tonnellate di benzene che sparge merda in tutto il mondo. È questa l'economia, è pesante, sporca e allora l'economia deve dirti cosa produrre per i prossimi 10 anni, come produrre e cosa non produrre più. Ma se ci metti un banchiere se ne batte i coglioni perché ti parla di spread e di tassi dell'ITR-AMT, vaffanculo! Questa l'ho detta per il TG3. Allora, fermi, 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 fermi. Allora, io quattro anni fa, quattro anni fa, c'è una voce bassissima. Cosa dice? Finmeccanica. Se la stanno comprando i fondi americani, stanno entrando dentro. Gli F-35 sono una palla colossale. Noi non li costruiamo gli F-35, noi assembliamo le tecnologie americane, facciamo i manutentori, facciamo gli schiavetti degli americani. È arrivato qua Obama quando abbiamo detto che non ne compriamo uno perché Renzi ha detto risparmiamo sugli F-35, 134 milioni, ha detto. È un F-35 che l'hanno spostato all'anno dopo, ma non puoi neanche farlo perché non è il tuo. E allora è arrivato Obama e ha detto aspetta un po', cosa stai facendo, gioia? Qui dobbiamo fare. Gli arabi si sono mangiati la piaggio, facevamo un veicolo civile, quello con le eliche dietro, B-30, non mi ricordo come si chiama, bellissimo, venduto in tutto il mondo. L'ha preso un arabo, ha chiuso la piaggio in Liguria e ne ha aperto un'altra, sempre in Liguria, per veicoli invece militari. Trasformano gli aerei così in droni. Oggi è il drone, non è l'F-35, il drone, la tecnologia del MUOS in Sicilia è per pilotare i droni che ti vengono a bombardare il buco del culo da 10 centimetri e non lo vedi neanche, il drone. Il drone ti può portare il regalo di Natale facendo impazzire Babbo Natale oppure fatti esplodere il culo, dipende come è usato. Il drone, pilotato a mille chilometri di distanza, con un visore, non andando avanti nelle tecnologie in una maniera pazzesca. I dati che si accumulano raddoppiano ogni anno. chi avrà la gestione dei dati, dei grandi dati, avrà la gestione del potere, non il petrolio, l'acqua, sono palle. Chi gestisce i dati? Sono 4,4 trilioni di megabit che entro 5 anni diventeranno 45 trilioni di megabit. Chi gestisce questa massa di dati? Gestisce la tua vita, ti fa una realtà personale per te, per te, per te. E' questo il problema che sta arrivando. E allora i posti di lavoro li possiamo trovare facendo delle scelte precise adesso. Si passa dal fossile alle rinnovabili, tassando il fossile e detassando le rinnovabili. E' lì che trovi i posti di lavoro. Quattro anni fa facevo vedere una stampante 3D, una stampante è un prototipo, ce l'avevo solo io in Italia, era una stampante che faceva piccoli oggetti, te lo ricordi, fischietti, cose cazzate. In quattro anni adesso le stampanti negli Stati Uniti costano 50.000 euro, sono enormi. I cittadini vanno dentro il comune, vanno dentro la stampante, pagano quello che si devono costruire, prendono il file, il disegno dal file, inseriscono il file di quello che si vogliono costruire e se lo costruiscono loro, i cittadini. Si costruisce la dentiera, la canoa, una casa di 100 metri quadri con la stampante. Vicino agli F-35 c'è l'Avio, l'Avio fa le turbine per la Boeing. Bene, con cosa le fa? Con le fonderie, col carbone, per fare l'acciaio, un cazzo. Polvere di alluminio delle lattine, triturato, polvere di titanio, li inseriscono in una stampante, prendono il file della turbina e esce il file della turbina. Realizzazioni cosa? Un terzo di materia prima, un terzo di energia e un terzo di ore di lavoro. Quindi il lavoro più andrà avanti, più si specializzerà, più diventerà tecnologico, più non ce ne sarà per tutti, lo capisce anche un bambino. La crescita toglie i posti di lavoro perché aumenta la produttività. Allora dobbiamo aspettarci milioni di disoccupati e se non ci prepariamo adesso con un reddito di cittadinanza sarà la guerra civile in questo paese del cazzo. Allora, tanta gente ha il posto di lavoro, ma non è vero che ha il posto di lavoro. Non ha il posto di lavoro. Pensa di avere un posto di lavoro, ma in effetti ha un posto di reddito. È il reddito che ti tiene dentro la società o ti esperti dalla società. E con questo cazzo di lavoro, questa parola, stanno ricattando tutte le nuove generazioni che non devono più starci sotto il ricatto del lavoro. Cazzo! Il lavoro non deve essere tutta la tua vita. È una parte importante. Poi c'hai la famiglia, i libri, i figli, c'hai gli affetti, il tempo libero. E che cazzo di vita stiamo facendo per i nostri figli? Il lavoro! Fare il lavoro in una miniera del sul ci sa lavoro. A 1300 euro morire di tubercolosi. Ma che cazzo di lavoro stiamo parlando? Allora, siamo già sulla terza rivoluzione industriale. Metà materiali, metà energie, metà ore di lavoro. È su questi temi che mi voglio confrontare con questi minchioni qua. Non sanno nulla. Io ho girato mezzo a l'Università di Europa, nei Politecnici di Zurigo, all'Università di Wuppe. L'ho parlato con della gente meravigliosa. Non sono miei i discorsi. Io vi riporto quello che ho sentito da dei geni. Geni, gente che fa le case che non solo non consumano energia, la fanno. La producono già. Perché non potremmo trovare posti di lavoro a Bari. Se il comune di Bari gestisse, per esempio, la ristrutturazione e l'efficienza energetica dei suoi edifici o degli edifici, il 90% di tutti gli edifici sono abitati. Tu puoi fare i lavori, abbassare, innalzare l'efficienza energetica con la gente dentro. Non devono uscire. Fai i lavori come in alto l'arice con la gente dentro. Fai i cappotti esterni, metti i dopivetri e poi metti un cogeneratore olio di colza. E allora i consumi da 400 Watt a metro quadro anno diventano quattro. Watt, metto quadro anno. Da 400 a quattro. E dai da lavorare piccole imprese, idraulici, elettricisti. Neste queste, hai ragione. Bisogna anche redarguirre. Bisogna anche sottolineare che cosa sono, come siamo nati noi. Forse non abbiamo ancora una base forte culturale. Perché questi cazzo di intellettuali si defilano, non prendono mai una posizione, snobbano questi movimenti, snobbano le tecnologie. L'intellettuale non dice io vado in rete, l'intellettuale dice io non uso il computer, non uso neanche il telefonino, figuratevi. Sono abituato da intellettuale a scrivere con la stilografica. Vai a fanculo te alla tua stilografica. Non sei un intellettuale, sei un finto intellettuale. Oggi le scuole, negli Stati Uniti le scuole hanno un Kindle che hanno memorizzato mille libri. In una roba così mille libri. Con gli insegnanti lavagne elettroniche. Ho visto aule, aule che sono l'aula. Non ci sono i muri, il pavimento e il soffitto. Sono pixel. Pixel. Vuol dire che gli studenti sono dentro, se fanno una lezione di biologia sulla cellula, l'aula si trasforma in una cellula. E noi siamo qui con i miei figli che hanno degli zai di 80 kg che sembra uno scerpa del cazzo. Allora, dobbiamo andare avanti per i nostri figli. Dobbiamo avere una visione dell'energia a 10, 15, 20 anni. Una visione del lavoro a 20 anni. Ce lo reinventiamo il lavoro. Ce lo reinventiamo perché tanti lavori chiudono, tante aziende chiudono e non riapriranno più, anche se gli dai 80 euro, 800 euro al mese. Non riaprano più. Bene, il 25 è la più grande votazione, il più grande voto politico della nostra vita. Potete andarci o non andarci. Se non andate confermerete quello che c'è e sono affari vostri, è vostra responsabilità. È il voto più politico che potete dare, il 25, perché si risolve in due parole. O noi o loro. Fine. E il giorno dopo che avremo vinto, stravinto le elezioni, il giorno dopo ci organizzeremo e faremo una gita a Roma. Una gita a Roma. Un milione di persone a guardarci il nostro Presidente del Consiglio ed eventualmente scortarlo a Cesano Boscone insieme allo Psiconano a tirarsi in su il morale là. Grazie a tutti.